Ciao a tutti e ben ritornati. Scusate se sono stata latitante in questo periodo natalizio, purtroppo il mio lavoro non mi dà molto spazio in questo periodo. Tornerò con nuovi video culinari ad inizio anno, quindi vi faccio questo video per ringraziarvi innanzitutto per l'anno appena passato, nonostante le tante difficoltà che ho avuto siete rimasti ancora qui. Sono stata veramente molto contenta della vostra partecipazione al TVAway, ma soprattutto per tutte le domande che mi avete posto e per tutti gli spunti che mi avete dato per i prossimi video. Partirò infatti da quegli spunti per organizzare la nuova scaletta del canale e quindi cercherò di approfondire gli argomenti che mi avete proposto. Vi ringrazio ancora tantissimo, spero che abbiate passato un buon Natale e spero che passiate anche una buona fine e un buon inizio. Quindi niente, che dirvi, tanti tanti cari auguri e ci rivediamo l'anno nuovo. Ciao!